Siamo con Ilenia Mesoracca di Crotone, neocalciatrice di calcio a 5 femminile. Sei qui a Cutro per questo raduno da Crotone a venire a Cutro, come mai? Perché ho cercato molti di calcio a 5 femminile, poi ho quel mio modio a Chet, quindi spero... Ti piace così tanto il calcio femminile? L'Istituto San Robertini. Ah, San Robertini, a che anno? Al quarto. Ah, quindi sei quasi vicino al diploma. E da dove nasce questa passione per il calcio femminile? Non lo so, è da due anni che mi sono molto avvicinata al Milan, alla squadra. Eh, si vede. Poi vedendo le partite mi sono avvicinata ancora di più. Ho visto che giochi molto bene, almeno in questo contesto. Sì, con un po' d'ansia però. Eh, piano piano. Pensi di poter anche entrare nella prima squadra di Cutro? Spero, questo era l'obiettivo. Quindi girerei per la Calabria in queste squadre di calcio a 5. Cosa, dove pensi di arrivare? Sei ancora molto giovane. Non lo so, il mio sogno era giocare in una squadra, quindi il mio obiettivo l'ho già raggiunto. Ti ringrazio. Grazie a voi.